e perché grax si ha fatto il video quello la dove lo battevo ma non va che cazzo ha fatto grax su di me paolo ambrosecchio cinquaro cincia guarda pure quello di grax ti ha beccato lo so lo so lo so lo so paolo che lo guarda a fare che lo guarda a fare lo so no ragazzi la collaborazione con grax non la faccio perché mi sta sulle palle non mi va non mi va dovrei farmi una maglietta con scritto umiltà il palavendo è modestia anche qua f per grax per rispetto per ciccio ragazzi a me grax mi stasi i coglioni va bene non lo sopporto non ci collaboro non ci voglio collaborare mi sta proprio sulle palle perché dossi grax così perde tutti i trofei sta merda c'è uno c'è uno in chat da lui che ha detto gli state tutti sulle palle proprio adesso mi ha spettato sul cazzo la regina elisabetta arriva l'inghilterra elisabetta non capisco ok perché dossi grax ha detto che ti fissa così perdi tutti i trofei lo dosso lo fisso rega sto così sto posso 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 stringerti la mano qualcuno mi sta addossando palesemente ma io penso che grax abbia capito perfettamente ma comunque ok Grazie a tutti.